I primi 100 giorni del governo Musumeci, il presidente della regione, ha snocciolato un lunghissimo elenco di interventi già realizzati. Ormone della crescita prescritto sotto banco a 133 pazienti sequestrati bene ad un ricercatore del Policlinico di Palermo. Al via il laboratorio del dialogo tra le culture inserita nell'anno europeo del patrimonio in Palermo capitale italiana della cultura. Buonasera, prima edizione di Media News, oggi è giovedì 8 marzo. Sono passati 100 giorni da quando si è insediato il governo. Abbiamo letto e ascoltato considerazioni diverse. Per noi 100 giorni sono soltanto una viltà del calendario. Così il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha esordito questa mattina all'incontro organizzato a Palazzo d'Orlean per fare il punto sui primi 100 giorni di vita della Giunta. il governatore ha snocciolato un lunghissimo elenco di interventi già realizzati, ha parlato delle tante criticità ancora da affrontare. In una regione normale 100 giorni possono anche essere l'occasione per fare un consuntivo. Nell'ultima regione d'Italia, la più povera, qual è la Sicilia, e fra le ultime d'Europa 100 giorni sono soltanto una viltà di calendario. Noi, nonostante questo, nei 100 giorni abbiamo messo in circolazione oltre 700 milioni di euro perché riteniamo che sia importante accelerare la spesa, favorire quella pubblica e quella privata. Abbiamo messo ordine alla masseria perché abbiamo definito l'assetto dirigenziale, abbiamo rivoluzionato i dirigenti generali nel senso che ne abbiamo nominati 16 su 30, non era mai accaduto, ne abbiamo fatto ruotare 10 su 14, abbiamo un nuovo segretario generale, abbiamo incontrato prefetti, sindaci, rappresentanti della categoria, rappresentanti del mondo delle religioni, i quattro rettori delle università, beh, posso dire di essere soddisfatto per un governo che ha cominciato la propria esperienza con grande impegno e con grande passione. Ai primi mille giorni, senza fare inutili e sciocche promesse, ai primi mille giorni questa Sicilia potrà guardare al resto del mondo con lo sguardo alto e fiero. Sono contento che la Lega abbia vinto nel panorama nazionale, è chiaro che in questo momento i temi all'ordine del giorno sono diversi, come aiutare le imprese, come aiutare la gente che muore di fame, come far decollare questa regione, ogni cosa a suo tempo. Per ora dobbiamo solo preoccuparci di dare un senso a questo governo, la Lega è nella coalizione naturalmente, è uno dei nostri più importanti alleati, ma il problema non ce lo siamo ancora posti. proprio perché non siamo abituati a fare annunci gratuiti. Abbiamo detto a PIF nel programma radiofonico che in sei mesi avremmo dato risposte ai disabili. Siamo a tre mesi, se lei mi consente, a quattro mesi, quindi con due mesi di anticipo noi daremo risposte ai 31.000, mi pare che sia, o 13.000, 31.000 disabili che hanno fatto domanda ai rispettivi uffici. Già nei prossimi giorni, le prossime settimane, giovedì della prossima settimana, ci sarà l'incontro d'assessore alla salute con i rappresentanti di questa realtà che è molto articolata, quindi prima di sei mesi i disabili avranno una risposta chiara, netta e concreta sulle risorse che potranno ricevere per consentire loro un'assistenza assai dignitosa. La regione siciliana è contraria alla realizzazione dell'inceneritore a pace del Mela. Il presidente Musumeci ha ufficializzato il parere negativo in una lettera inviata al presidente del Consiglio Gentiloni. Con una lettera inviata al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, il presidente Nello Musumeci ha ufficializzato il parere negativo della regione siciliana sull'ipotesi di costruzione di un inceneritore di rifiuti nel Messinese. Ho espresso al governo centrale, scrive il governatore, il mio parere contrario al termovalorizzatore della centrale termoelettrica di San Filippo del Mela e non perché abbia pregiudizi sugli inceneritori contemplati e disciplinati dalle leggi dello Stato, ma perché credo che che l'area del Milazzese debba ormai ridurre il pesante carico inquinante che sopporta da oltre mezzo secolo. Alla delegazione dei sindaci della zona, che ho invitato a Palermo, chiederò di programmare, insieme al governo regionale, una decisa azione di rottura col passato sul fronte della tutela ambientale. Sono certo che nessuno si tirerà indietro. Nella lettera Musumeci spiega che il proprio parere contrario scaturisce, a prescindere dalla circostanza che l'opera ricada o meno entro l'area di vincolo paesaggistico, dalla considerazione che quel territorio da troppo tempo subisce per la presenza di poli industriali un pesante degrado ambientale del paesaggio, degrado divenuto ormai insostenibile. In coerenza con il mio programma di governo, aggiunge, mi batterò affinché presto si diavvia un piano di riconversione industriale, di bonifica dei siti e di recupero dell'area, non solo del Milazzese, ma di ogni altro luogo siciliano, dove insistono in pianti di raffinazione e suscettibili di inquinamento. Il presidente della regione è inoltre ieri presentato il nuovo assessore all'energia e rifiuti, Alberto Piero Bon, tecnico veneto di Area Udc. Ciò che appare è rilevante il suo rapporto di lavoro con il generale Roberto Iucci, tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000, commissario straordinario per l'emergenza idrica nell'isola. Piero Bon è stato anche subcommissario per la raccolta differenziata in Campania. E parliamo ancora dei risultati delle elezioni politiche. A commentare il dato finale, con il larghissimo consenso in Sicilia e 5 Stelle, il vicepresidente della regione, Gaetano Armao. Il governo del giornale va avanti. Questa protesta che va rispettata dai cittadini siciliani, alla quale dobbiamo rispondere non con annunci assolutamente fittizi, quali quello del reddito di cittadinanza che non porta a nulla, è uno stipendio impossibile, lo definisco. Dobbiamo rispondere invece con una politica economica come quella che stiamo mettendo in campo. Imprese, imprese, imprese. Dobbiamo sviluppare e sostenere le imprese siciliane, cominciare la start-up. Dobbiamo attrarre nuove imprese da fuori area economica, attraverso un sistema di fiscalità di sviluppo che consenta di far venire in Sicilia imprese che girano per il mondo e cercano opportunità e cercano luoghi dove investire. Presidente, ma secondo lei i siciliani un po' di queste alleanze con i leghisti si sono un po' spaventati? Lei ha avuto un buon risultato in Sicilia, assolutamente superiore rispetto a quello che ha avuto anche alle regionali. ha interpretato un malessere nei confronti di una gestione assolutamente scriteriata dell'immigrazione. Occorre correggere e intervenire su questo campo, ma occorre soprattutto puntare alla crescita economica della nostra regione. Non con promesse vane come quello del Regio di Cittadinanza, ma con la costruzione di percorsi, processi di crescita, veri, incentrati sulla ricchezza del valore, sulla ricchezza della produzione, che solo l'impresa può dare. Quindi il nostro documento di economia e finanza regionale, approvato in giunta e adesso è l'esame dell'Assemblea, costruisce un quadro economico e giuridico che consenta alle imprese di venire in Sicilia e di crescere in Sicilia. Solo l'impresa dà il lavoro vero, non lo dà la pubblica amministrazione, tantomeno i stipendi annunciati in allegria. Presidente, un'ultima domanda. Questo fallimento del PD in Sicilia, secondo lei i siciliani hanno fatto il voto di protesta contro il vecchio governo? Sì, oggettivamente il centrosinistra in Italia ha sbagliato totalmente, ma io l'ho detto e scritto per anni, la politica sul Mezzogiorno. Renzi ha appena insediato, la prima cosa che ha fatto ha soppresso il Ministero del Mezzogiorno e ha disconosciuto qualsiasi diritto di cittadinanza al tema del Sud nelle politiche di governo. Le conseguenze sono state nefaste, le cose buone, oggettivamente buone, che il governo Gentiloni aveva cominciato a fare sul Mezzogiorno non hanno ancora esplicato i propri effetti. Si può fare molto, il Sud è una leva essenziale per la crescita dell'Italia, senza il Sud l'Italia non potrà competere. Solo ricostruendo e ricuscendo il divario che è stato accresciuto in questi anni si potrà rendere competitivo il nostro Paese. Cambiamo argomento. Ormone della crescita prescritto sotto banco a 133 pazienti sequestrati bene ad un ricercatore del Policlinico di Palermo deve rispondere di falso ideologico, abuso d'ufficio e truffa aggravata ai danni dell'Università del Nosocomio. Sotto indagine anche un docente universitario che essendo autorizzato dall'assessorato regionale alle specifiche prescrizioni lo avrebbe aiutato. Avrebbe prescritto illecitamente a 133 pazienti usando i formulari del Policlinico l'ormone della crescita, agevolando così un'importante multinazionale farmaceutica con cui collaborava. E' questa la pesantissima accusa della quale dovrà rispondere il ricercatore universitario Alessandro Ciresi, accusato di falso ideologico, abuso d'ufficio e truffa aggravata ai danni dell'Università e del Nosocomio. A lui sono stati sequestrati inoltre beni per 104.694-18 euro. Gli illeciti sarebbero stati compiuti dal 2014 al 2016. Sotto indagine c'è anche la docente universitaria Carla Giordano, che essendo autorizzata dall'assessorato regionale della salute per le specifiche prescrizioni lo avrebbe aiutato. Alla professoressa si contestano il falso ideologico e l'abuso d'ufficio. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri del NAS. La somma sottoposta a sequestro spiegano i militari dell'arma è l'equivalente del vantaggio economico conseguito dal ricercatore e derivante dal contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno che lo vincolava all'Università di Palermo per un impiego orario di 1500 ore annue per il periodo dal 1 marzo 2013 al 30 novembre 2016. Mentre in realtà, in tale arco temporale, lo stesso effettuava attività libero-professionale esterna non autorizzata, nonché attività di consulenza per un'importante multinazionale farmaceutica con la quale, già a partire dall'anno 2012, aveva stipulato contratti di collaborazione finalizzati all'erogazione retribuita di consulenze endocrinologiche online. L'indagine ha preso le mosse da un accertamento effettuato il 23 febbraio 2016 presso il Dipartimento del Farmaco dell'ASPE di Palermo su segnalazione del dirigente, nel corso del quale è emersa l'esistenza di ben 204 pratiche irregolari inerenti piani terapeutici a base di ormone somatotropo, GH, ormone della crescita, prescritti illecitamente negli anni dal 2014 al 2016 dal ricercatore universitario a 133 pazienti per una spesa complessiva di euro 849.789,86 utilizzando il formulario identificativo del Policlinico. In particolare è stato poi verificato che i pazienti venivano sottopossi a visita anche presso un centro medico privato dal ricercatore stesso, medico non autorizzato alla specifica prescrizione, che ridigeva i piani anzidetti forte della collaborazione del docente universitario di suo riferimento, clinico prescrittore autorizzato dall'assessorato regionale della salute per le specifiche prescrizioni. Un comportamento illecito di cui Ciresi era a conoscenza tanto che in una conversazione intercettata spiegava a una paziente come rispondere agli investigatori. Caltanissetta ha risolto dopo 35 anni un cold case di mafia torna in carcere il capo mafia Mimì Vaccaro. Il padrino fenelissimo di Bernardo Provenzano era uno degli scarcerati eccellenti della provincia. A quasi 35 anni dall'omicidio la polizia e i magistrati della DDA della procura di Caltanissetta ritengono di aver individuato gli autori materiali dell'uccisione di Vincenzo Vacirca all'epoca 42enne avvenuto a Niscemi l'8 novembre del 1983. Gli uomini della squadra mobile Nissena diretta da Marzia Giustolisi hanno arrestato Domenico Mimì Vaccaro 64 anni ritenuto uomo d'onore della famiglia mafiosa di Campofranco in esecuzione di un'ordinanza del GIP. L'altro presunto sicario Antonino Bevilacqua è stato poi assassinato. Il cold case è stato risolto grazie all'incrocio di dati raccolti nel tempo. L'omicidio sarebbe maturato nell'ambito di una sanguinosa faida negli anni 80 tra clan del Nisseno. All'arresto si è arrivati verificando e riscontrando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Salvatore Errigio Ciro Vara e Antonino Pitrolo e del dichiarante Giancarlo Giugno. L'omicidio sarebbe stata la risposta all'uccisione del capofamiglia di Niscemi Salvatore Arcerito 63 anni assassinato il 30 aprile del 1983 e che esponenti dello stesso gruppo addebitavano a Giuseppe Vacirca fratello di Vincenzo. Ma l'obiettivo della rappresaia era all'epoca latitante così il vertice di Cosa Nostra deliberò la vendetta dando ordine di assassinare Vincenzo. Giuseppe Vacirca fu ucciso poi nell'agosto del 1990. Vaccaro è indicato come strettamente legato al boss Giuseppe P. Dumadonia e come uomo di fiducia del boss palermitano Bernardo Provenzano che annotava il suo nome nei pizzini rinvenuti nel suo covo. Dopo l'arresto di Alessandro Barbieri nel gennaio del 2014 Mimì Vaccaro gli era subentrato nel ruolo di capo provinciale di Cosa Nostra della provincia di Caltanissetta. Restava in libertà Mimì Vaccaro che dopo la scarcerazione faceva la vita da pensionato. Trasporti, scuole, uffici oggi disagio anche in Sicilia per lo sciopero dell'8 marzo alle proteste indette dalle diverse sigle si aggiunge inoltre quello globale delle donne contro violenze e femminicidi. 8 marzo di passione anche in Sicilia tra sciopero delle donne e proteste nei trasporti scuole e uffici proclamati da alcuni sindacati autonomi in molti settori in alcuni casi per l'intera giornata. Alle proteste indette dalle diverse sigle si aggiunge come detto quella globale delle donne in occasione dell'8 marzo contro violenze e femminicidi e per rivendicare una maggiore parità di genere. Per quanto riguarda il trasporto aereo è stato proclamato lo sciopero nazionale dagli uomini in radar dalle ore 13 alle ore 17 indetto da Filt CGL Fit CISL Will Transport UGL TA e Unica ed è inoltre previsto uno sciopero locale presso l'aeroporto di Roma Fiumicino dalle 10 alle 18 indetto da UGL TA e Unica uno sciopero di 4 ore a partire dalle 12 è stato inoltre proclamato dai lavoratori all'Italia aderenti a CONFA e l'assovolo all'Italia invita tutti i viaggiatori che hanno già acquistato un biglietto a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto sul sito all'Italia.com chiamando il numero verde oppure contattando direttamente l'agenzia di viaggio presso la quale hanno acquistato il biglietto i passeggeri che hanno acquistato il biglietto per viaggiare oggi in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere rimborso del biglietto solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore fino al 15 di marzo anche all'aeroporto di Catania in seguito alle agitazioni proclamate dai controllori di volo ENAV e da alcune sigle sindacali del trasporto aereo potrebbero verificarsi disagi nei vari scali lo ricorda la SAC società che gestisce i servizi di Fontana Rossa che invita i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento e che sono garantite le fasce orarie di tutela cioè dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 non va meglio neanche per il trasporto ferroviario con lo stop per l'intera giornata di oggi indetto da Usb, Cobas e Usi dai macchinisti dell'Orsa dalle 9 alle 16 e dei lavoratori dei cab trasporti per gli appalti del settore ferroviario di numerose cooperative tanti di stop anche per i trasporti locali visto che l'Usb ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutti i servizi pubblici e privati bus e metro si fermeranno però con modalità diverse da città e città e con le fasce di garanzia previste lo sciopero generale indetto da Cobas Usi e Usb riguarda anche le scuole di ogni ordine e grado un altro sciopero proprio nella scuola ci sarà anche il 23 e gli uffici pubblici e privati ferme per l'intera giornata di oggi infine anche le lavoratrici di tutti i settori che aderiranno allo sciopero generale indetto per la giornata della donna cortei flash mob iniziative varie in diverse città per promuovere una piattaforma che chiede tra l'altro meno precarietà diritto alla conciliazione tra lavoro di cura e lavoro produttivo reale parietà dei salari tra uomo e donna lotta alle molestie alle discriminazioni sul lavoro indennità di maternità per tutte ancora problemi per i lavoratori impegnati nella realizzazione del passante ferroviario a Palermo la SIS ha avviato le procedure di licenziamento per tutti 261 operai impegnati nella costruzione dell'infrastruttura dell'infrastruttura a renderlo noto sono Feneal Will Filca Cisle e Fillea CGL in una lettera la SIS informa che già dal 12 di febbraio l'azienda ha inviato alla società RFI l'ente appaltante il recesso del contratto una notizia che riporta a galla l'incubo disoccupazione per le tute blu come già accaduto a febbraio del 2017 e che getta un'ombra sulla realizzazione dell'opera apprendiamo stupiti questa notizia ritenevamo risolti i problemi già un anno fa dichiarano i segretari di Feneal Will Filca Cisle e Fillea CGL Ignazio Baudo Paolo Danca e Francesco Piastra ci opporremo a questi licenziamenti perché sono immotivati chiederemo un incontro con la SIS previsto dalla procedura per avere immediate spiegazioni e coinvolgeremo anche le istituzioni e il committente per fare chiarezza sulla situazione questa decisione avrebbe un impatto troppo forte sulla città e sui cittadini privati di una infrastruttura che si attende da ben 12 anni non si può giocare sulla pelle dei lavoratori e scaricare su di loro i problemi contrattuali tra le parti soltanto a inizio febbraio l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone ricordava che finora è stato realizzato soltanto il 25-27% dei lavori abbiamo chiesto alle aziende aveva detto Falcone di accelerare per evitare i disagi in città e restituire al più presto ai cittadini i loro spazi riteniamo nel giro di 24 mesi per avere un'opera importante al territorio dell'area metropolitana di Palermo eppure a quanto pare gli intoppi non mancano mai entro il mese di marzo era prevista l'ultima azione del cantiere Notarbarto l'aeroporto per giugno la ripresa dell'esercizio con sei mesi di ritardo però rispetto alla data fissata inizialmente di dicembre 2017 ma continuando di questo passo è assai probabile che i tempi si dilatino ancora di più Alvia il laboratorio del dialogo tra le culture inserito nell'anno europeo del patrimonio è in Palermo capitale italiana della cultura quattro giorni di manifestazioni da oggi a domenica come testa di accoglienza progettazione integrazione di culture diverse Palermo laboratorio del dialogo tra le culture un esperimento nuovo che parte al confronto istituzionale e sociale proprio riconoscendo alla città di Palermo il suo ruolo di cerniera tra culture arti e tradizioni cresciute sulle sponde del Mediterraneo e non solo sono stati scelti progetti ed eventi che possano indagare la complessità e le sfide del presente nell'anno europeo del patrimonio non si poteva non confrontarsi con i tesori materiali ed immateriali riconosciuti e protetti dall'UNESCO attorno ad un tavolo di dialogo unico come Love Difference l'opera di Michelangelo Pistoletto che l'artista biellese ha consegnato a Palermo fino a dicembre come messaggio di pace e solidarietà si discuterà della festa europea della musica che il 16 giugno in una sorta di anteprima della festa in programma il 21 giugno porterà a Palermo mille giovani provenienti da tutta Europa a Michelangelo Pistoletto verrà conferita sabato prossimo la cittadinanza oraria della città di Palermo mentre per le strade del centro storico sfileranno anche i gruppi del mandorle in fiore Palermo è una città che accoglie la diversità come un valore aggiunto necessario ha detto l'assessore alla cultura Andrea Cusumano e si fa portavoce dei valori di scambio e condivisione delle ricchezze del patrimonio culturale del mondo l'Europa e il Mediterraneo come luoghi in cui e attraverso cui diffondere i valori della comunità umana al di là di divisioni e paure credo che sia la conferma del messaggio che Palermo manda al mondo abbiamo una sola razza al mondo la razza umana ma abbiamo molte culture e Palermo è un luogo di incontro di diverse culture che si riconoscono nell'unica razza umana e questo mette insieme in questi quattro giorni mette insieme il riconoscimento UNESCO col patrimonio arabo-normano nelle cattedrali di Monreale Cefalù mette insieme il mandorlo in fiore mette insieme Palermo capitale della cultura mette insieme l'anno europeo del patrimonio culturale che si tiene a Palermo in altre quattro città d'Europa mette insieme sostanzialmente una straordinaria opera di pistoletto che raffigura quel mediterraneo che è per noi un oceano di pace e di diritti e non un lago di periferia e di guerre e Palermo in questo contesto è certamente capitale ma non perché è capitale in termini formali ma perché valorizza il capitale umano che è la grande risorsa di convivenza di questa città sono quattro giorni di delirio in un anno di deliri carichi di entusiasmo carichi di futuro e carichi di cultura cosa ci dobbiamo aspettare post Palermo capitale della cultura che il titolo ci viene tolto viene dato a qualche altra città e noi restiamo capitale è tutto grazie per essere stati con noi arrivederci alla seconda edizione a qualche altra città a qualche altra città città a qualche altra città